Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari, che tratta sulla parità Tra le migliori blue chip di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per Amplifon, che vanta un progresso del 3,15%. Le peggiori performance si registrano su Tenaris, che ottiene meno 2,79% Torna a galoppare lo spread, che si posiziona a più 189 punti, mentre il BTP a 10 anni riporta un rendimento del 3,66% Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Francia, il valore della produzione industriale è meno 2,6%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del tasso di disoccupazione e della variazione occupati. Lunedì è in programma il dato sul PMI composito dell'Unione Europea Grazie a tutti